Con la cerimonia di consegna dei premi a vincitori si è conclusa la settima edizione del Festival del Dialetto e Lingue di Minoranza di Calabria promosso dal Centro Cultura e Arte 26 di Maria Zanoni al suo quarantesimo anno di attività. L'incontro, tenutosi nella sala polifunzionale San Girolamo, alla presenza di un numeroso e attento pubblico, si è aperto con gli interventi istituzionali che hanno sottolineato l'importanza della valorizzazione del dialetto e delle lingue minoritarie per scongiurarne la scomparsa da parte dell'assessore regionale alla cultura, onorevole Maria Francesca Corigliano, del presidente dell'ente Parco Nazionale del Pollino, onorevole Mimmo Pappaterra, del dottor Vittorio Scerbo, sindaco di Marcellinara, città gemellata da anni con il Festival del Dialetto che nell'occasione ha consegnato a Maria Zanoni, presidente del Centro Cultura 26, il gagliardetto della sua città in segno di amicizie per il traguardo dei 40 anni di attività raggiunto nel segno della ricerca etno-antropologica e della proporzione culturale e del sindaco di Castrovilla, Rimi Monopolito. E' seguita la cerimonia di premiazione che ha visto sul podio del concorso letterario internazionale riservato a scrittori dialettali calabresi, anche residenti fuori regione, il poeta Rocco Nassi per il libro Uricrio, Rume, Cori, in dialetto di Bagnara. Il premio è stato consegnato dall'onorevole Corigliano, il secondo premio allo scrittore Antonio Gerundino per il libro Aparmedia i Pinocchie, in dialetto di Amendolara, che è stato consegnato dall'onorevole Pappaterra. E il terzo premio al poeta Mario Signoretti per il libro U principicchio, una traduzione in dialetto di Tarsia del piccolo principe, che è stato consegnato dal sindaco Lopolito. Il premio speciale del Mibak Sabap Cosenza è stato assegnato alla memoria di Luigi Russo nel ventennale della morte del poeta dialettale di Castrovilla, che ha lasciato un patrimonio di pubblicazioni di oltre 15.000 versi. La targa commemorativa è stata consegnata al figlio, il dottor Fedele Russo, dal sindaco Scerbo. Dopo la premiazione e qualificati interventi istituzionali, è stato presentato il volume dell'antropologa Maria Zanoni, piatti e gulie, cibo e gusto di Calabria, antiche tradizioni mediterranee, edito da Arte 26, con la sponsorizzazione della cooperativa Pollino Food Experience, un gruppo di giovani che promuove il ritorno alla terra per produrre prodotti tipici del territorio. A parlare di alimentazione mediterranea, identità dei territori e promozione culturale, la psicologa della salute, la dottoressa Cauteruccio, e la professoressa Donatella Laudadio, capo delegazione Pollino Fai Calabria. Hanno concluso i lavori dell'incontro, coordinato dalla vicepresidente del Centro Cultura 26, la dottoressa Claudia Rende, la preside di Pollino Food Experience, la dottoressa Teresa Maradei, e la professoressa Maria Zanoni, visibilmente emozionata e soddisfatta della riuscita dell'evento da lei ideato nel 2009, che oggi si attesta tra i più prestigiosi del panorama nazionale per la valorizzazione del dialetto, un bene culturale da valorizzare.